Lukaku, amore mio, quanto mi sei mancato. Ora siamo diretta agli ottavi di Champions. Ce la faremo ad arrivare. Certo, mister. Antonio, ti fidi di me? Sì, Romelu, mi fido di te. Che succede? Che succede? Capitano Vidal! Capitano Vidal, che succede? Mister, scusi, abbiamo preso l'iceberg. Non l'ho visto. Ottimo lavoro, infiltrato Vidal. Ottimo lavoro. Grazie, presidente. Aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto. E io scemo che l'ho cercato per due anni quello. Potevo prendere giaccherini, potevo prendere. Porca puttana, stiamo affondando. Stiamo affondando. Manche le roba lì che andiamo qui. Forza Lukaku, mettiamoci in salvo. E che cazzo fai tu, Eric, sei con il violino? Datti da fare, fai qualcosa. Ma che ce frega, mister, beviamoci su. Finché la parca va. Lasciala andare, finché la parca va. Ma che fate? Ma che fate? Ammutinamento, ammutinamento. Guarda come affonda la nave dell'Inter. Volete una scialuppa per rimanere in Champions? Poveri terrestri. Se la stanno passando male in questo 2020. Il coronavirus li sta mettendo KO. Chissà che effetto avrebbe questo virus su noi alieni. Guarda, sulla Terra ci sono due extraterrestri. Ecco l'effetto che ha su di loro. La transizione, Ronaldo, due finte! Poi il destro all'angolino! Ibraimovic! Ancora Ibraimovic! Doppietta! Direi che questo virus ha un effetto molto positivo su noi extraterrestri. E dato che il 2020 è l'anno sfigato della Terra, direi che è il momento giusto di invadere. Ai terrestri manca solo l'invasione aliena quest'anno. Motore è tutta! Prepararsi ad invadere! Ah, cazzo. Ci mancava solo l'invasione aliena. Dopo Milan devo salvare pure la Terra ora. Devo inventarmi qualcosa. Ah! Zlatan male! Infortunio! Bonera! Cambio! Sì, vabbè. Mi autosostituisco. Tanto con Napoli ho già fatto il mio dovere. Fermi tutti! Uno dei due extraterrestri ha avuto un problema. Forse è meglio non rischiare. Questo virus potrebbe essere pericoloso anche per noi extraterrestri. Che il 2020 sia sfigato anche per noi alieni. Invertire la rotta! Invertire la rotta! Non è il momento giusto. È rinviato tutto al 2021. Zlatan, sono in quarantena nel monastero e sto guardando la partita. Che cos'hai? Non lasciarci senza allenatore. Tranquillo padre Pioli. Io sto bene. Non ho niente. Mio fortunio è finto. C'erano problemi ben più grandi. Un giorno capirete tutti. Sempre sia lodato. Allora Simo, ti piace sto aereo? Sì presidente, è molto bello. Ma è sicuro che devo guidarlo io? E certo Simo, sei allenatore e devi guidare la squadra. E poi qui ti puoi l'aereo e non rompi i coglioni. Sennò che te paga a fa? Anzi, ha provreso di pagare. A tutti i calciatori della Lazio, vi ricordo di raccogliere i soldi per il biglietto dell'aereo. Sono 150 euro a testa. Ma come presidente? Dobbiamo pagarci noi il biglietto? E certo, sennò come c'è rietto dall'acquisto di sto aereo? Costa sto coso. Date pure i soldi alla Hostess, Luisa Alberto. Luisa Alberto, ma come ti hanno agganciato? È la punizione per essere andato contro il presidente. Te lamentavi che non venivi pagato? Bene, ora sei pagato per fare la Hostess. 5 euro all'ora, portami un caffè e un cornetto. Simo, vuoi qualcosa? Sì, un bicchiere d'acqua, grazie. Bicchiere d'acqua sono 5 euro, forza, tirati fuori. Presidente, scusi, non sono molto pratico. Ma com'è che si frena qui? Ma sì, dai, sarà come la macchina. Schiaccia qualcosa. Vabbè, provo con questo pulsante qui. Porca puttana, era il pulsante dell'espulsione automatica. Ho buttato fuori Patrick. Meglio così, Simo, non stipendi nemmeno da pagare. Spiace per Patrick, spiace per il ragasso. Torniamo sul nostro pianeta. Aspettate. Diego, eccoti. Il più grande extraterrestre è mai sceso sulla Terra. Bene, ci siamo tutti. Possiamo andare. Torniamo a casa. E la pire Marabona, lo marcan due, pisa la pelota Marabona. Arranca por la brezza del segno del punto mundial. E di sempre Marabona. Genio, genio, genio. Tata, tata, tata. Ivar! 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 Marabona, che còpico! Che te cable dessa viviste!